Stasera parliamo di un bando della Commissione europea a sostegno del settore del turismo, dal titolo Facilitare i flussi turistici in Europa in bassa e media stagione per giovani e anziani. Il bando è gestito all'interno del programma per la competitività delle aziende in Europa, in particolare le piccole e medie e questo programma è noto appunto col suo acronimo COSME, è gestito dall'Agenzia Esecutiva per le PMI ed è finanziato fino al 2020. Il turismo è considerato un settore strategico, infatti il Trattato di Lisbona in vigore dal 2009 prevede che la Commissione adotti delle misure volte a favorire un ambiente favorevole allo sviluppo del turismo e ad incoraggiare la cooperazione tra stati membri attraverso lo scambio di buone pratiche ed è in questo contesto normativo che la Commissione europea ha adottato nel giugno del 2010 la comunicazione dal titolo Europa destinazione mondiale numero uno, un nuovo quadro politico a sostegno del turismo. Questa comunicazione definisce una nuova strategia a sostegno del turismo che si declina in 21 azioni. Due di queste azioni sono proprio l'estensione della stagione turistica e la creazione di meccanismi di scambio tra stati membri a sostegno dei flussi turistici in bassa stagione di giovani, anziani, famiglie a basso reddito, persone con disabilità. Proiezioni dell'Eurostat ci dicono che in Europa più di 128 milioni di persone hanno un'età compresa tra i 55 e gli 80 anni, mentre i giovani con un'età compresa tra i 15 e i 29 anni sono circa 95 milioni. A questo dato si aggiungono i 22 milioni di giovani residenti in Croazia, nuovo stato membro dal 2013 e nei cinque stati candidati all'adesione, Montenegro, Islanda, Macedonia, Serbia e Turchia. Studi poi dell'Organizzazione Mondiale del Turismo indicano il settore del turismo giovanile come un segmento a rapidissima crescita. Le proiezioni fino al 2020 parlano di una crescita di fatturato di 320 miliardi di dollari l'anno con circa 300 milioni di viaggi l'anno. Anche il segmento anziani appare poco sfruttato dal momento che solo il 41% delle persone aventi un'età compresa tra i 55 e i 75 anni ed in buona salute viaggia e se lo fa, lo fa maggiormente all'interno dello stato di appartenenza. Ecco perché viene presentato questo bando che mira proprio a sostenere l'estensione della stagione turistica, a rafforzare la cooperazione transnazionale tra gli attori pubblici e privati che operano nel settore turismo, a rafforzare il senso di cittadinanza europea in questi due gruppi bersaglio. Il bando è suddiviso in due assi, l'asse A dedicato appunto agli anziani, l'asse B dedicato ai giovani ed è possibile presentare una sola proposta progettuale per uno solo di questi due assi. Ma chi sono i destinatari appunto del finanziamento? Innanzitutto le autorità pubbliche anche di livello locale, questo vuol dire che anche un'amministrazione comunale può presentare un progetto su questo bando. Le associazioni, le organizzazioni, le federazioni di giovani e anziani, le università, i centri di ricerca, gli istituti di istruzione e formazione, gli agenti di viaggio, i tour operator e qualsiasi altra piccola e media impresa del settore turistico, le organizzazioni no profit e non governative e gli altri organismi pubblici o privati che operano nel settore oggetto del bando. Ma il proponente deve avere comunque la forma di un consorzio internazionale che comprenda quattro diversi paesi europei. Quindi il proponente, per essere appunto un candidato ammissibile, deve essere un consorzio di minimo quattro partner provenienti da quattro diversi paesi europei, fino a un massimo di otto partner e affinché il partenariato sia considerato strategico deve comprendere almeno una tipologia dei destinatari che abbiamo elencato prima, quindi almeno un'autorità pubblica, almeno una piccola e media impresa, almeno un'associazione, una federazione di giovani o anziani. Questi sono i paesi che possono partecipare al bando, i 28 paesi appunto dell'Unione Europea più l'Islanda che è attualmente un paese candidato all'adesione. Ma qual è la dotazione finanziaria su questo bando? Sull'asse A sono allocati circa un milione e trecentomila euro, sull'asse B, quello dedicato ai giovani, circa 500 mila euro. Viene concesso un finanziamento che copre fino al 75% dei costi ammissibili e comunque fino a un massimo di 220 mila euro a progetto sull'asse A e 250 mila euro a progetto sull'asse B. Queste cifre ci fanno ad esumere che verranno finanziati un totale di massimo sette progetti, due sull'asse dei giovani, l'asse B, e circa 5 sull'asse A, l'asse degli anziani. La scadenza, per presentare appunto le proposte, è il 15 gennaio 2015. In caso di finanziamento, i progetti dovranno iniziare a luglio 2015 e avere una durata compresa tra i 12 e i 15 mesi. Ma il testo completo del bando e tutte le informazioni relative sono disponibili sul sito dell'Agenzia Esecutiva per le PMI e naturalmente potete anche scrivere a ineuropa.tv6.it. Prima di lasciarvi vogliamo ricordare quanto la Commissione europea ha già fatto in materia di turismo sociale finanziando appunto un progetto che si chiama Calipso Tourism for All. Qui vedete il portale di Calipso. Collegandosi a questo portale si possono anche, si può usufruire diciamo di servizi completamente gratuiti, sia che si operi come appunto azienda del settore turismo, sia come fruitori finali, quindi come viaggiatori. E si possono anche visionare esempi di buone pratiche in materia di politiche volte ad incentivare e ad estendere la stagione turistica per determinati gruppi bersaglio. Per stasera è tutto, arrivederci alla prossima settimana.